buongiorno ragazzi siamo di nuovo insieme anche oggi vi presento una ricetta veloce e con pochi ingredienti uno strude con pere e cioccolato ecco la ricetta abbiamo bisogno di un rotolo di pasta sfoglia 3 pere 200 grammi di cioccolato fondente al latte quello che vi piace 2 cucchiaini di zucchero di canna cominciamo con lo sbucciare le pere e farle a fettine prendiamo le nostre pere a fette adesso disponiamole sulla nostra carta da forno vediamo come sono buonissimo mettiamo il nostro cioccolato a coprire le nostre pere e mettiamo i due cucchiaini conserviamone un po' per metterlo poi sopra tagliamo i nostri bordi esterni a strisce di un centimetro e mezzo non arriviamo proprio vicino all'epidio più distanti poi le prendiamo e copriamo alterniamo una volta a destra e una volta a sinistra adesso mettiamoci sopra il caccio cucchiaino di zucchero grezzo nella teglia da forno e cuociamolo a 180 gradi per 20 minuti circa ecco qua la nostra mele foglie con pelle e cioccolato è pronta è buonissima adesso la stigiamo buon appetito buon appetito Grazie.